Si conferma il punto di rottura tra l'acqua San Bernardo Cantu e Ike Udano, con la Siliga Savellino che resta alla finestra e in pole per aggiudicarsi il lungo di Detroit, sempre più in uscita dal club Brianzolo. Non sembrano bastare le garanzie di nuova liquidità dopo l'uscita del russo Dimitri Gerasimenko in favore della TIC, il consorzio Tutti Insieme Cantu, che ha aperto alla fase di transizione nel club per la cessione ad una cordata statunitense. Udano, forte dell'addio praticamente consumato la scorsa settimana, ma solo sfiorato per il diniego last minute della proprietà, non ha fatto rientro a Vighizzolo, sede degli allenamenti dell'acqua San Bernardo. Per il club Canturino non mancano i problemi tecnici, dopo aver posto rimedio alle problematiche societarie prioritarie. Anche Tony Mitchell e Davon Jefferson hanno saltato le prime sedute di allenamento, ma se per i due cestisti la nuova diligenza e lo staff tecnico stanno pensando ad una multa, sul fronte Udano non si registrano novità in tal senso. Riprova che il giocatore non dovrebbe proseguire la stagione in Brianza, Avelino resta in vantaggio sulla concorrenza, la Virtus Bologna ha acceso i radar, ma la Siligas può contare sull'accordo totale raggiunto poco più di una settimana fa con Udano, che in Irpini aveva già messo piede nell'attesa del nulla osta. Tanti segnali positivi nell'operazione in chiave bianco-virde, con la scandone chiamata a sostituire Patrick Young in tempi celeri.